amici di che pizza buonasera bentrovati e l'ospite di questa sera è definirlo poliedrico è dire poco leggo brevemente dalla sua biografia su instagram che è la più breve che ho trovato 16 anni di multiplayer punto it fondatore di gameplay caffè sommelier editor di dissapore e fondatore di garage pizza molti di voi l'avranno già capito siamo con antonio fucito detto tanzen giusto antonio esattamente ciao simon ciao antonio gli ascoltatori grazie di aver accettato il nostro invito immagino che tu sia impegnatissimo soprattutto per tutte queste cose che fai ma volevo iniziare con una classica domanda cioè chi sei e che cosa fai non si è mai troppo impegnati se uno si organizza il tempo e si fa piacere fare le cose lo dico sempre perché odio quelle che dicono che sono sempre impegnati non rispondono non fanno non partecipano e poi dopo però le loro cose le trattano benissimo chi sono chi sono ma difficile anche anche io faccio fatica a definirmi tendenzialmente ho sempre stata una persona molto attenta e molto appassionata di comunicazione secondo me sulla base ma non la comunicazione dal punto di vista lavorativo ma comunicare con le persone in generale una propria passione il proprio lavoro le proprie idee soprattutto nei campi in cui ci si sente abbastanza al sicuro abbastanza schillati per per dire la propria quindi non mi piace nemmeno il contrario parlare di tutto e videogiochi e tecnologia e da un lato e cibo dall'altro sono sempre state le mie passioni e quindi ho cercato di trasformarle in lavoro nel corso del tempo e quindi già a 17 anni 18 anni quindi stiamo parlando del 1997 1998 perché ho 40 anni precisi ho cominciato a scrivere online di videogiochi prima in maniera chiaramente amatoriale a seguire tutto un percorso all'interno di una testata giornalistica nella quale sono diventato uno dei caporedattori uno dei dei host e quindi dei delle persone facevano anche video ho sempre creduto poi nel rapporto diretto con i lettori nel senso che al tempo il concetto appunto di podcast era molto bozzato in italia il concetto di video e quindi a me piaceva invece fare la video recensione metterci la faccia quando da un giudizio e rispondere direttamente alle persone sui forum sui programmi di messaggistica del tempo icq audium e così via mi è sempre piaciuta questa cosa e poi l'ho declinata un bel po di tempo dopo anche sul cibo cominciando a scrivere per dissapore ormai sette anni fa e veicolano ancora di più verso la pizza che poi la pizza è sempre stata la mia passione una volta mi sono ritrovato la galleria fotografica e vedo che ci avevo tantissime foto di pizze mai pubblicate semplicemente tendevo già da un bel po di tempo a fotografare le pizze che mangiavo a condividere al massimo con gli amici o così estemporane sui social e allora mi sono aperto anche l'account tanzamerspizza e mentre i videogiochi diventavano come dire una sicurezza della mia vita lavorativa di community e altro ho deciso di puntare su un progetto invece appunto di pizza e la nascita quindi di garage pizza dove ho cercato di portare tutta la mia esperienza e know how anche a livello tecnologico di comunicazione e di altro della tecnologia sul lato pizza che è un po più indietro in termini podcasting in termini di video in termini di tutto quello che ruota questo mondo anche come viene raccontato chiaramente il mondo pizza il mondo del cibo ha un taglio dal mio punto di vista ancora troppo istituzionale ancorato a dinamiche sorpassate quindi ho cercato di invece applicare quelle dinamiche più giovanili più giovani più dinamiche appunto che avevo sempre utilizzato sui videogiochi e quindi non so se ti ho risposto assolutamente e hai quasi iniziato un percorso veloce di quello che ho fatto assolutamente hai risposto e hai iniziato anche quasi a rispondere alla mia seconda domanda che era proprio su quello a cui fatto riferimento ora hai detto che il mondo della pizza è meno o quantomeno era meno diciamo impegnato nella nella comunicazione nel nell'utilizzo dei social quantomeno a mio avviso io come ti stavo raccontando insomma prima che iniziassimo l'intervista sono un semplice appassionato diciamo sono un amatore nel mondo della pizza mentre invece penso tu hai una visione molto più professionale sia per i tuoi trascorsi e per la tua esperienza anche in generale nel campo food invece vieni da un da un settore quello dei videogiochi che invece è fortemente mediatico per e soprattutto per per eccellenza attento alle nuove tecnologie quindi social streaming quanto stai diventando importante invece secondo te l'aspetto mediatico per la pizza stanno nascendo canali youtube addirittura pizzaioli che aprono canali youtube dirette live live sui social da quando hai visto nascere questo fenomeno e secondo te sarà duraturo è legato al momento particolare in cui probabilmente si va meno in pizzeria e si sta più a casa allora ci sono state due fasi secondo me del due accelerate in termini di visibilità e mediaticità del mondo pizza con instagram negli ultimi anni direi 4 4 5 ormai instagram ci ha fatto capire che il cibo ma già da prima ovviamente è bello da vedere anche e un social come instagram può esaltare la bellezza di un cibo quindi purtroppo per fortuna diversi pizzaioli hanno cominciato ad adattarsi all'estetica di instagram solo migliorando la qualità delle foto e i punti di vista ma anche esaltando i colori delle pizze facendo crescere i cornicioni portando maggiore attenzione no sui topping sulle farciture sugli abbinamenti perché poi dopo le pizze dovevano essere pubblicate fino a casi estremi dove assolutamente la pizza postata su instagram non era l'esempio di poi quello che trovavi in pizzeria quindi la mediaticità è partita da lì e poi si è accelerata nuovamente durante la pandemia soprattutto per quello che dici te i canali youtube lo youtuber di pizza che può essere un pizzaiolo appunto che si apre il canale youtube oppure un appassionato che capisce le potenzialità di questo mezzo di comunicazione sono esplosi sono nati sono cresciuti durante la pandemia appunto perché si gira molto di meno la gente alla ricerca costante di provare a creare la propria pizza di passare il tempo se ti ricordi no soprattutto nella prima fase lockdown c'era il lievito che andava a ruba la farina non si trovava sugli scaffali dei supermercati cose scene incredibili carteggenica lievito e poco altro esatto dagli scaffali e quindi c'è stata questa accelerata un ambito di youtube che in realtà appunto nella tecnologia nei videogiochi è sempre stato estremamente forte perché permette di raggiungere migliaia e migliaia di persone con un linguaggio anche piuttosto diretto e poco impostato tranne casi specifici e quindi permette appunto di avere un rapporto diretto una consumazione veloce abbattere i filtri e poi ottenere da un lato delle conversioni chi fa questo per lavoro comunque per passione avanzata ha delle conversioni perché dopo può aumentare il numero di follower può vendere un prodotto può fare codici sconto sentire partner potenziali per pubblicità dall'altro la gente vuole contenuti 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 da poi attuare e provare a casa c'è una differenza però perché anche se sono persona che adora comunicazione e marketing nel mondo pizza e nel mondo cibo che poi spesso le due cose si sovrappongono come idee come concetti c'è la componente del prodotto che è fondamentale un prodotto che di base è accessibile il videogioco costa 70 euro 90 euro bisogna magari ordinarlo online bisogna preordinarlo dal proprio negoziante e quindi le persone hanno bisogno di informarsi prima di spendere 70 euro per un videogioco 80 euro per un videogioco devono capire se è nelle proprie corde se è lungo abbastanza se ne vale la pena sulla pizza sul cibo sulla pizza in particolare la pizzeria è più istintivo come concetto puoi andare comunque a mangiarla senza farti troppe pippe mentali o semplicemente col consiglio dell'amico o la recensione di triple by sorvolante di qualche utente e quindi lì c'è meno esigenza soprattutto quando si tratta di sperimentare girare nel proprio come dire nel proprio circolo se poi si va a fare una vacanza si va all'estero si va fuori casa sicuramente la comunicazione a maggior peso oppure per quelle pizzerie per quei pizzaioli per quelle realtà che non si trovano sul gran tour della pizza quindi nelle zone battute nel centro di roma nel centro storico di napoli ma si trovano in un paesino si trovano con una forte concorrenza non hanno i mezzi forti a livello economico per essere presenti sui vari canali ma in realtà grazie social possono farsi notare cioè io dico sempre l'esempio oramai forse fin troppo utilizzato di salvatore lioniello che si trovava a orta della tela e oggi si trova a succivo sono dei posti conosciuti soltanto dai residenzi residenti che grazie invece lui grazie alla comunicazione costante su instagram è stato uno dei primi a sfruttarlo al top a creare una brand identity quindi un qualcosa di estremamente riconoscibile anche a investire nelle sponsorizzate instagram e facebook è riuscito a portare la gente in quel posto che non è turistico che non c'ha nulla che è residenziale e a fare file enormi e questa cosa è importante quindi la comunicazione e il marketing sono estremamente importanti nel mondo pizza per chiudere per rispondere con un riassunto però non così come fondamentali secondo me come altri campi e nuove tecnologie ok molto molto interessante senti la la prossima domanda è sullo specifico su un fenomeno quello di youtube vediamo sempre di più youtuber che diventano pizzaioli o comunque insegnano a fare la pizza ma anche pizzaioli che diventano youtubers qual è il il tuo pensiero stiamo entrando in una nuova era è un fenomeno che rimarrà sarà un nuovo modo di comunicare quello che si fa come hai accennato tu ora oppure stiamo arrivando a un eccesso di contenuto c'è forse più contenuto di quanto si possa consumare quello che dici più contenuto di cosa consumare ci stiamo arrivando perché poi alla fine nel momento in cui 30 40 50 100 persone mille persone si mettono a fare la ricetta della pizza in teglia o di quella napoletana bla 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 è ovvio che poi c'è una saturazione ed è anche difficile scegliere e far visualizzare tutti questi contenuti però lì secondo me entra in gioco chi facendolo youtuber il content creator che poi youtuber si fanno chiamare anche così soprattutto quando poi operano su altre piattaforme come twitch e così via tiktok quelli che riescono a dare una certa identità un po come tu stai dando al tuo podcast un po come in generale uno cerca di dare far creare un format personale peculiare allora quelli che riusciranno a far questo andranno oltre la ricetta perché poi gli argomenti si esauriscono puoi inventarti mille variazioni ma a un certo punto si esauriscono continueranno ed è un fenomeno che mi aspettavo accadesse al di là della pandemia perché appunto l'ho visto in maniera enorme nel mondo della tecnologia in generale non soltanto i videogiochi con tante persone che sono riusciti a far diventare la loro parte di creazione contenuti un lavoro alcuni estremi nei videogiochi esistono dei youtuber che hanno cachet enormi anche di 10 mila euro al giorno sono alla stregua dei cantanti dei intrattenitori in tv e altro quindi ci sta secondo me non emergeranno tanti perché poi ci vuole costanza oggi la costanza si può dare ma se dopo ti spera sono sicuro torneremo alla normalità entra in gioco il lavoro la pizzeria l'altro lavoro perché magari gli appassionati che fanno youtuber dovranno fare i conti con lavoro diciamo classico che hanno e quindi un po sarà di meno la voglia anche la necessità magari girare di passare del tempo libero lontano dalle telecamere e quindi al netto di qualcuno che proverà sicuramente ne conosco qualcuno a trasformare questa passione in lavoro quindi a accampare di creazione contenuti altri faranno fatica io poi in realtà ho visto tanti pizzaioli aprire canali youtube e già un bel po hanno smesso di pubblicare contenuti qualcun altro ci sta riuscendo però ripeto quando si tornerà alla normalità vediamo chi ha la voglia la costanza e la genuinità perché secondo me soltanto le cose che si fanno in maniera genuina si riescono sempre a portare avanti perché una cosa che fai un format le prime puntate sono fighe oppure inviti l'ospite interessante dopo devi dargli comunque cadenza anche se c'hai meno idee anche se c'è l'ospite meno importante anche se non c'è voglia perché poi la nostra voglia si alterna in base all'umore in base agli accadimenti della vita normale ecco assolutamente siamo esseri capricciosi molto volubili esatto soprattutto adesso con tutte queste possibilità ma perché perché mi devo mettere a farlo posso posso accendere netflix senti volevo tornare anche su un'altra cosa che tu hai detto prima tu l'hai l'hai definita l'hai definite pippe mentali sulla pizza in maniera molto secondo me molto sincera ma la mia domanda era più invece legata alla pizza che incontra la critica gastronomica tu sei sei editor di un importantissimo forse il più importante sito italiano di cucina non voglio dire bestialità correggimi se sbaglio sì di critica gastronomica poi sì esatto poi lì a definire il più importante c'è sempre un mix di autorevolezza e numeri sicuramente di sapore tra i siti più autorevoli e importanti di critica gastronomica in italia esattamente e la pizza però almeno a mio avviso per la mia esperienza personale è sempre stata considerata fino a tempi relativamente recenti un un alimento un qualcosa molto di molto quotidiano anche se non quotidiano comunque qualcosa di molto poco raffinato che difficilmente richiedeva la consultazione di una guida per la scelta di dove dove mangiarla mentre invece adesso ci sono guide dedicate da tutte le principali case editrice di food ci sono classifiche ci sono premi secondo te quanto sono validi questi prodotti che classificano la pizza a livello nazionale addirittura a livello globale perché alcune di queste classifiche si dichiarano la classifica delle migliori pizzerie al mondo ad esempio e qual è il tuo pensiero a riguardo allora il mio pensiero che è che dare un giudizio dare un consiglio fare una selezione fare una classifica addirittura una competizione è divertente e può essere salutare nel momento in cui viene fatto in maniera interessante da un lato genuina dall'altro fatto sta che purtroppo spesso e volentieri queste cose vanno a farsi benedire sul sull'altare del trovarci un tornaconto tornaconto banale che può essere ingraziarsi le pizzerie scroccare e cose del genere più pesante nel momento in cui ci sono delle dinamiche economiche alle spalle che che vanno a influire a inficiare le scelte e altro le persone hanno bisogno di una guida di un consiglio non a caso anche piattaforme community come trip advisor hanno dei numeri impressionanti e vengono utilizzate da milioni di persone quindi la gente vuole consigli tanti vogliono darne c'è una certa saturazione anche lì e io sono molto critico nel momento in cui queste classifiche queste selezioni questi consigli si fanno trasportare da altre dinamiche sono torbide non sono chiare nelle regole non sono chiare di chi fa queste classifiche e magari sono anche arroganti perché tu dicevi bene io non posso mai leggere la pizzeria migliore del mondo ma no perché voglio fare il bel bonaccione o il buonista però per quanto io abbia provato oramai immagino forse migliaia di pizzerie nel corso della mia vita potrei sempre avere dei buchi o comunque all'estero oramai stanno nascendo così tante pizzerie che si fa fatica allora non ce n'è nemmeno bisogno se io eleggo la mia pizzeria più buona d'italia non devo per forza dire è quindi migliore del mondo è soltanto una cosa arrogante di inutile italianità e nazionalismo e nel fare figo poi è chiaro lo sai meglio di me nelle dinamiche di marketing e comunicazione è importante fa ancora più figo appunto dire che questa è una classifica mondiale questa è la pizzeria migliore del mondo è più notiziabile e altro però spesso si cozza con la con la credibilità credibilità che poi alla fine dovrebbe colpire è inteso come attecchire sulla community sulle persone finali non essere nemmeno un esercizio di stile per gli addetti ai lavori che per quanto possono essere bravi sono pochi secondo me una classifica una guida una selezione ha importanza se riesce a avere una community importante a far raggiungere tantissime persone che seguono queste selezioni in maniera interessata poi in realtà uno può fare anche avere anche un pubblico di 50 persone ed essere super apprezzato in quello che fa perché poi i numeri purtroppo sono frutto spesso e volentieri di dinamiche malate dei social di artifici di cose ancora meno genuine quindi non è che poi uno deve valutare questo con chi ce l'ha più grande però sicuramente bisogna parlare alle persone non bisogna parlare al settore che comunque è composto da poche centinaia di persone quindi la tua diciamo critica è rivolta più alla metodologia tu preferiresti un prodotto che sia costruito più con con l'input di una community c'è degli utenti finali fondamentalmente ho capito bene sì ma anche diretto nel senso che quando si danno le consigli quando si fa una classifica per me è importante far capire bene su quale basi viene fatta e metterci la faccia sempre comunque la faccia intesa chiaramente come singola persona così come gruppo così come sito rendere tutto senza zone grigie perché così si acquista credibilità e anche se magari le persone non sono d'accordo col tuo giudizio perché poi si tratta sempre di un parere soggettivo in generale dico sempre che una recensione è un parere soggettivo da parte di qualcuno che si spera abbia tanta esperienza al punto tale da farla diventare da farla sembrare oggettiva ma nessun parere può essere oggettivo solo i numeri sono oggettivi ma anche lì possono essere interpretati in maniera soggettiva e quindi essere chiaro in quello che si fa e dare credibilità così che anche se il lettore dice ma io ho provato sta pizzeria sta pizza sto prodotto non mi è piaciuto e altro sa a chi rivolgersi sa il metodo di giudizio e altro ti faccio un ultimo esempio quando si recensiscono videogiochi anche lì chiaramente puoi immaginare c'è un mondo infinito di classifiche di giudizi e altro e ci sono tanti lettori che alla fine si tarano in base alle firme se sanno che Antonio Fucito è un fan dei giochi di ruolo sapranno sempre che quando c'è una recensione in tal senso magari il voto è un po' più alto di quanto si aspettano ma uno si tara e sa che bisogna sempre come dire smorzare l'entusiasmo su quel prodotto viceversa se uno sa che quell'altro tipo di genere non piace allora gli dà sempre il contesto c'è una firma c'è la faccia ci sono regole chiare e poi quindi gli utenti i consumatori e altro tra traggono le conseguenze anche perché appunto siamo sempre vissuti no anche sul resto del cibo il consiglio dell'amico oggi il consiglio dell'amico sono diventate le guide le classifiche e i grandi numeri assolutamente però tu sul tuo sito garage pizza pubblichi delle recensioni di pizzerie però con una metodologia ben precisa appunto molto onesta ci puoi raccontare un po' qual è questa metodologia e perché tu reputi valido il tuo metodo di giudicare le pizze perché hai diciamo ti senti di poter condividere il tuo giudizio con i tuoi lettori allora più che validità è sapere che quello che faccio cerco di farlo sempre con la massima coerenza trasparenza e con la coscienza pulita io sono un super fan della coerenza in tutto e non solo in queste cose nel comportamento delle persone la coerenza che può essere anche una persona una metodologia sempre negativa ma che però è coerente nel corso delle sue attività nel corso della vita anche ed è un'amicizia tu sei fatto così dimostra sempre di essere fatto così non cercare di adattarti sempre alle cose perché significa che ti stai forzando o stai mentendo quindi quello che ho sempre fatto è cercare di dire guardate io giudico le pizze così queste sono la mia scala di valutazione questi sono gli aspetti per me importanti ad esempio per me il prezzo lo segnalo sempre chiaramente ma non è una discriminante importante per il voto cioè se chiaramente un prezzo è molto alto o molto basso ma incidere e lo segnalo prontamente però in generale il rapporto qualità prezzo è un discorso estremamente complesso che varia da persona a persona perché se una persona estremamente benestante o vive in una città con gli affitti alti come può essere Tokyo è chiaro che per lui la percezione di costo è differente rispetto a una persona giovane un ragazzetto oppure che vive in un paese dove tutto costa di meno quindi già fare un discorso a priori infatti quante volte devo rispondere alle persone che mi scrivono a margherita Tokyo 10 euro 15 euro è un furto e io dico no dobbiamo contestualizzare a Tokyo la margherita perché costa 15 euro a Tokyo ci sono mille motivazioni oppure la margherita di cracco l'ultimo dei problemi tra virgolette il prezzo cracco sta in un posto dove paga un milione di euro di affitto all'anno c'ha tot camerieri e quindi non è solo il food cost c'è tutto il resto che incide sul prezzo quindi in realtà anziché dire un furto a priori si valuta la qualità della margherita di cracco che comunque è medio basso e quello ok e poi c'è sempre la scelta di non andarci però pretendere che in galleria a milano la margherita di cracco costi come da sorbile tribunale significa veramente avere mezzo neurone funzionante in testa onestamente quindi bisogna sempre contestualizzare quindi per tornare ai giudizi che do alla metodologia che ho scelto che poi è una come tante non è la quella vincente o quella perdente la mia basata a me piace dare i voti anche se vorrei non darli perché in un mondo perfetto sarebbe bello scrivere del testo farlo leggere senza dover dare quel cacchio di voto perché così la gente può discuterne e magari ti fa un click in più quindi sono anche dinamiche che vanno come dire a bilanciare la necessità di avere un seguito di avere delle visualizzazioni e quindi ripeto traspense uno sa che sono andato in quella pizzeria dico sempre che quando faccio una recensione o giudico una pizza è stata la mia esperienza di quel momento che può essere stata anche particolarmente positiva con una pizzeria in giornata o top o particolarmente negativa poi ci sta anche in alcuni posti mi riconoscono e io quello che posso fare è guardare attorno a me gli altri tavoli come vengono serviti se il prodotto è uguale capire se il pizzaiolo sta facendo qualcosa che non fa di solito però come posso essere fregato in positivo posso essere fregato in tipo mi è capitato anche di andare in posti super blasonati dove non mi conoscevano quindi sono entrato ho fatto i fatti miei ho fatto le foto dopo quando è arrivato già il prodotto quando è arrivata già la pizza mi è andata molto male poi a vedere le recensioni su trip advisor 2000 voti positivi tutti 5 stelle oppure super incensate da i colleghi della critica enogastronomica quindi sono sempre esperienze soggettive forse per questo il mio piccolo seguito c'è perché parlo a loro direttamente dico come la penso niente di più niente di meno ok molto molto interessante infatti volevo passare un po parlare del tuo personale rapporto con la pizza tu più o meno quante volte a settimana non non penso sia il caso di dire al mese mangi la pizza e qual è la tua pizza preferita so che sei di origini napoletane quindi immagino la risposta sia scontata ma volevo sapere appunto il tuo tipo di pizza preferita e poi soprattutto se negli ultimi mesi o sarebbe meglio dire nell'ultimo anno visto che stiamo facendo i conti con la pandemia da quasi un anno ormai hai provato come come tanti mi è compreso a farla da solo in casa e con che esito allora continuo a mangiare tantissimo pizza perché come ti dicevo è una passione le passioni non conoscono confini quindi mi sono adattato più volte durante questa pandemia durante il primo lockdown ho cercato di farle un po a casa anche per scopi scientifici ho provato tipologie compresa quella surgelata che ha fatto un video che è andato molto molto bene è stato molto apprezzato sono stato visto una sorta di eroe o kamikaze della pizza poi quando si è riaperto tutto ho ricominciato subito a girare tantissimo asporto delivery adesso sto provando tanti pizza box perché poi la pandemia ha portato diverse pizzerie rinomate e diverse startup a creare questi pizza box che poi arrivano a casa e vanno rigenerati in forno vanno scongelati vanno assemblati a casa quindi è sempre una costante con continuo a mangiare almeno quattro pizze a settimana se non 5 6 7 8 ho fatto dei record di cui vado fiero perché perché complimenti sono arrivato a 16 giorni consecutivi nel mangiare pizza quando giravo tantissimo e io mangio sempre almeno due pizze in ogni pizzeria che vado adesso ecco mi sto tenendo su questa media delle 4 3 4 a settimana perché in realtà non c'ho grande accesso però se mi capita che mi faccio mandare 3 4 pizza box è capace mi faccio tutta la settimana il mangiare pizza tranquillamente quindi per dirti che non mi sono stancato e trovo piani a e b sulla pizza fatta in casa sì ci ho provato ho recensito anche un paio di forni ho provato varie cose ho fatto due corsi in realtà da pizzaiolo ma ti dico che li ho fatti per aumentare la mia conoscenza sulla pizza e per criticarla ancora meglio la mia dimensione in questo mondo in queste due barricate è quella del consumatore di pizza comunque in quello che la mangia che la giudica quando possibile che la approfondisce che la studia farla un po di meno poi ho attraversato anche un periodo della mia vita in cui questi nove mesi di base l'ho passati 9 10 mesi ormai li ho passati tendenzialmente da solo dopo una grande convivenza e quindi mi sono trovato anche un po da solo e fare la pizza da solo magari sporcare la cucina oppure perderci 24 48 ore e poi doverla consumare da solo perché poi appunto si poteva dire nessuno soprattutto nella prima fase non mi andava però in generale mi piace essere comunque dal lato della barricata di quelli che consumano e giudicano decisamente anch'io io mi sento molto consumatore anche se a volte passo alla all'autoproduzione insomma faccio di necessità virtù però decisamente anch'io mi sento sono anche molto curioso sai nel senso curioso di provare tutto di più perché veramente le declinazioni le tipologie ma anche all'interno della stessa tipologia di pizza ci sono veramente tante variazioni è chiaro io sono cresciuto con quella napoletana così ti rispondo anche all'altra domanda sono cresciuto con quella napoletana che per me rimane quella tecnicamente migliore e bilanciata migliore in termini di gusto e il resto chiaramente nelle sue massime declinazioni poi sono un fan del carboidrato della pizza in generale quindi mangio anche tanta pizza in teia mangio tutte le declinazioni nuove no perché poi alla fine quella napoletana anche è affiancata da pizze che sembrano napoletane che sono napoletane nelle basi ma sono poi moderne in termini di abbinamenti oppure lavorazioni quindi tutte le varie tecniche di impasti indiretti e quindi sì è chiaro che quella napoletana nelle sue massime espressioni per me è inarrivabile però mangio di tutto mangio anche dominos se serve quando viaggiavo tantissimo negli stati uniti dominos pizzat california pizza kitchen tutti gli altri li provavo perché di base poi se uno piace il carboidrato la pizza in mancanza di meglio si accontenta oggi sto attento è chiaro se posso scegliere vado sempre al top che sia pizza napoletana sia degustazione che sia romana e di tutte le altre tipologie anche io devo devo confessare che quando vivevo negli stati uniti ero un fan di dominos vivevo in un posto abbastanza sperduto quindi piuttosto che le pizzerie pseudo italiane preferivo la qualità rassicurante di dominos faccio faccio mea colpa che lo sappiano tutti ora non è non è più un segreto senti a proposito proprio di viaggi tu hai viaggiato tantissimo visto tantissime volte in giappone eventi sulla pizza in giappone che mi è sembrata una cosa divertentissima e molto curiosa tra l'altro abbiamo parlato anche in un episodio precedente con laura condurro dell'antica pizzeria da michele in the world che ci ha raccontato un po' di questo loro format che è stato esportato in tutto il mondo volevo chiederti qual è secondo te il paese che più ti ha stupito a livello di pizza dove dove hai trovato una maggiore energia una una maggiore curiosità su questo alimento più che altro più che l'alimento in sé per sé insomma la pizza sappiamo che si mangia in tutto il mondo ma una vera passione anche magari che porta ad approfondire il prodotto a ricercare qualcosa di un po' più particolare che ecco le catene che sono diffuse in tutto il mondo allora rimane comunque rimangono gli stati uniti il paese dove c'è più pizza di tutti i generi ricerca fino a un certo punto ma anche lì perché senza fare troppi sceni storici è chiaro che la pizza è stata importata dagli italiani di base e da altri pochi posti si sono poi sviluppate tantissime tipologie e una passione sfrenata per la pizza in stati uniti che oggi sono il paese come numeri assoluti non in relazione agli abitanti col maggior consumo di pizza nel mondo i vari stili chicago philadelphia poi quelli jersey new york ci sono tutti i tipi c'è tanta pizza italiana tanta pizza napoletana tanti immigrati che chiaramente hanno fatto fortuna lì perché è vero che gli stati uniti sono il paese delle opportunità soprattutto se le sai sfruttare non ti fai travolgere da invece dalle cose negative e quindi gli stati uniti rimangono un paese dove è possibile mangiare una pizza di qualità di tutti i generi appunto da da quelle più industriali fino a quelle più artigianali è chiaro che il giappone posto che che adoro che la mia seconda casa nel quale ci sono stato una miriade di volte è quello che mi stuzzica di più perché ha un'estensione più ridotta perché le pizzerie che ci sono sono frutto di uno studio al di là degli italiani che ce ne sono italiani napoletani che hanno aperto pizzerie di successo anche giapponesi stessi che hanno studiato in italia o hanno visto la potenzialità di questo prodotto si sono messi hanno creato dei format estremamente fighi molto ricercati e molto attenti alla alle materie prime alla qualità della pizza stessa che viene trattata proprio in maniera religiosa nella sua realizzazione poi ci sono altri paesi che hanno anche culture di pizza differenti l'america latina ha tante tipologie interessanti ma completamente differenti di pizza quindi ecco come come macro aree stati uniti sicuramente seguiti dal giappone ma ci sono tanti posti nel mondo dove la pizza è estremamente consumata anche nella sua forma più triste per noi italiani più becera per noi italiani però ecco la pizza dico sempre una delle poche parole che praticamente non hanno bisogno di traduzione no e quindi tu nomini questa parola e bene o male ti capiscono nei quattro angoli della terra sì assolutamente è verissima questa cosa senti ora torniamo un po a domande personali io ho letto seguendo un po il punto il tuo sito il tuo instagram che tu recentemente hai intrapreso un percorso sei riuscito a perdere peso che è una cosa peso sicuramente una cosa che abbiamo guadagnato tutti durante questo lockdown perché siamo rimasti tantissimo in casa però continuando a mangiare pizza e mi collego anche un po al fatto che parlavamo dell'estero perché soprattutto ad esempio negli stati uniti c'è una sorta di demonizzazione del carboidrato in genere di cui tu invece hai detto di essere un grande fan e io posso sottoscrivere questa passione ci vuoi raccontare un po come sei riuscito senza non c'è bisogno di scendere nei dettagli ma un'indicazione di massima per per sapere che comunque c'è speranza che si può si può essere in forma anche mangiando pizza quasi tutti i giorni demonizzato il carboidrato secondo me gli stati uniti a parte dipende da come lo associ a cosa lo associ questo carboidrato e anche il concetto di pizza stesso è molto differente una pizza di chicago deep dish deep fried quindi con tanto formaggio con parti fritte altre ovvio che non è la stessa cosa di una marinara con origano o di una margherita semplice di una pizza con le verdure così come le insalate no tu che hai vissuto nei straduti lo sai una cosa insalata all'italiana con un po di olio sale e basta in america l'insalata è magari la cesar col pollo con pieno di roba dentro salsine è ovvio che già stiamo parlando di due concetti completamente differenti quindi già di base la nostra la nostra istruzione la nostra dieta mediterranea e affine è molto più salutare io semplicemente allora è chiaro che non c'è nessun tipo di miracolo ed è chiaro che io di base una persona che evidentemente c'è un buon metabolismo e non sono mai stato così tanto in sovrappeso però ti dico che a inizio lockdown ero praticamente otto chili in più di oggi non si notavano tantissimo soprattutto vestito perché sai magari li mettevo in maniera uniforme su tutto il corpo però poi dopo ebbene amare le noti la panzetta le maniglie dell'amore e tutto quello che ho fatto innanzitutto in questi otto mesi e sembra cavolata che non c'entra niente con con l'alimentazione ma in parte sì è la tenuta mentale tutto lo che facciamo per me è sempre derivato dalla mente da come riusciamo a capire quello che dobbiamo fare a contrastare troppe tentazioni a non farsi a non farci abbattere dalla situazione perché poi lockdown secondo me ha messo la pandemia ha messo a dura prova la testa di tutti perché poi la testa non funziona si porta dietro il lavoro si porta dietro rapporti con le persone l'economia la gestione economica e tutto quindi innanzitutto ho detto mi son detto anche in maniera inconscia di certo non buttarti giù a parte che già ero in sovrappeso per i miei target all'inizio di questa pandemia mi son detto ok non è che siccome sto a casa devo aprirmi una bottiglia ogni giorno io c'è una cantinetta di vini che mi guarda costantemente nel soggiorno piena di vini e quindi manco a dire non c'ho le tentazioni non devo mangiare sempre a priori schifezze e altro quindi ho cominciato a cercare di capire meglio il mio corpo il mio metabolismo quindi la mia passione sono le pizze quelle non ci voglio rinunciare perché veramente mi mettono gioia lo faccio anche per lavoro mi piacciono mi piace provare ma non è detto che debba continuare a mangiare dolci fritti cose ogni santo giorno quindi ho regolarizzato tutto il resto oltre la pizza in maniera diciamo positiva quindi io quando non mangio pizza al netto di altri sgarri perché a natale figurarsi mangio bene mangio sano mangio con le giuste quantità e faccio un minimo di attività sportiva anche a casa a maggior ragione che spesso siamo chiusi in casa comunque tre quattro volte a settimana mi faccio la mia mezz'oretta di esercizi di crossfit con le applicazioni e tutto quindi ho detto ho migliorato tutto quello che c'è attorno alla pizza quindi non mi faccio problemi a sgarrare due tre volte a settimana anche pesantemente anche con la bottiglia di vino due bottiglie di affigurarsi o altro non mi sono fatto problemi durante il periodo di natale a mangiare per cinque sei giorni consecutivi di più dopodiché lo sgarro deve diventare lo sgarro non deve essere la normalità quando uno entra in quell'ottica allora sa che quando non c'è bisogno oggi che stiamo registrando è mercoledì si mangia bene petto di pol riso colazione fatta bene acqua senza alcol e tutto poi venerdì sabato domenica mi mangio però deve essere sempre l'eccezionalità lo sgarro la passione quello che secondo me mi ha portato poi ho cercato con piccole tecniche di aumentare il metabolismo quindi ho raddoppiato la quantità di acqua che bevo io l'ho trovato fondamentale bere molta più acqua io bevevo un litro e mezzo due litri d'acqua adesso ne bevo tre quattro al giorno e dopo un po di di fatica mi viene naturale bere così tanta acqua e quindi bevo più acqua un po di esercizi e cerco di essere pulito nei giorni in cui non sgarro per lavoro o per passione questa cosa sul mio corpo ha portato a un miglioramento enorme ho perso otto chili mi sento più in forma ho ripreso il tono muscolare grazie agli esercizi è chiaro che chi ha lo dicevo anche in un podcast patologie importanti chi ha un sovrappeso forte è chiaro che che ha bisogno anche ci mancherebbe di un aiuto medico o di una fase di terapia d'urto più forte però secondo me nel momento in cui uno riesce a raggiungere un peso attorno a quella forma veramente poi si può fare di tutto accelerando il metabolismo e non facendo diventare lo sgarro il quotidiano ottimo molto anche questo davvero davvero interessante senti io ti avevo promesso che non ti avrei chiesto qual era la migliore pizzeria di napoli però un consiglio te lo devo chiedere visto che sicuramente hai mangiato molte più pizze di me vorrei chiederti due pizzerie che secondo te sono un must una per la tradizione e una per l'innovazione da qualsiasi parte in italia tu preferisca due sono veramente poche ma voglio fare come risposto già mi sa pizza dixit anche è veramente complesso perché ci sono miliardi di variabili anche banalmente appunto tu già mi hai detto tradizione innovazione già qualcosa ma poi immaginati locale storico locale casinaro locale elegante napoletana non napoletana vista mare se ci sono troppe cose anche io in realtà noi cerco in realtà io quando devo pensare una roba del genere vado anche sul mood io scendo la prossima volta scendono a napoli o vado a milano dove sto dico che tipo di pizza voglio mi va la pizza trasbordante una pizza bella carica una pizza leggera mi va stare a parlare con gli amici in tranquillità o c'è una uscita galante o altro e quindi faccio fatica io ti posso dire posso andare su napoli io sono legato alla tradizione di starita che mi piace tantissimo e se voglio qualcosa invece di più però io lo associo anche centro storico quindi starita a mater day oppure addirittura c'è una pizzeria si chiama oliva da carlo e salvatore che sarebbero parenti di concetti interessanti che sta proprio in piazza sanità al centro storico al centro del centro del centro oppure dico vabbè voglio andare una pizza sul mare e altro e quindi chiaramente sul mare pizzerie come 50 calò sposano sia la tradizione che l'innovazione quindi pizze particolari più elaborate meno conosciute dalla tradizione e magari anche impasti un po più sofisticati ma è veramente un casino dare dirti due nomi perché poi farei un torto alle centinaia di pizzerie ottime che stanno in gira per l'italia che ho provato se io se mi dici vicenza te ne dico una e due se mi dici verona te ne dico sei o sette se mi dici milano la ventina dove ti consiglierei andare io banalmente quando mi chiedono un consiglio faccio anche qualcosa che va contro me stesso nel tempo perché chiedo dove stai in che zona strada di milano che tipologia vuoi quindi ci metto ci metto l'attenzione quando potrei dirne un paio a caso ciao vai qua e là perché per me è importante ripeto ogni persona tu immagino anche te no sei da solo con moglie con amici cioè sono vuoi spendere tanto poco ci sono veramente tante casistiche che è difficile inquadrare in un consiglio così netto assolutamente sì ok però già c'è dato diciamo dai qualche qualche spunto ce l'hai dato senti avevo un'ultimissima domanda prima della domanda di chiusura tradizionale che faccio a tutti gli ospiti del podcast che era un po l'avevo pensata per te come professionista della comunicazione e anche come professionista del settore food non non strettamente legato alla pizza è ormai una è affinato che ormai i reality show dedicati alla cucina alla ristorazione siano un prodotto che va su tutte le reti a tutte le ore in tutte le declinazioni dal più famoso master chef altri altri esempi più specializzati e tantissimi altri format secondo te a parte per l'ovvia ragione che la pizza di solito è un prodotto che richiede tempi di realizzazione molto lunghi come mai non è ancora nato un prodotto simile dedicato esclusivamente al mondo della pizza della panificazione vabbè qualcosa c'è stato chiaramente non su sky proprio però comunque sul sul satellitare tipo pizza hero con bonci poi c'è stato il boss delle pizze però tutte produzioni sicuramente medio basso tra le altre cose sul boss delle pizze lo dico in tranquillità sono stato chiamato per fare il giudice ma dovevo portare uno sponsor che non aveva senso certo mi chiami per fare il giudice poi dice se porti un sponsor 5 mila euro ti facciamo fare il giudice quindi delle dinamiche che succedono sempre nelle trasmissioni più piccoline che cercano di finanziarsi con le persone che partecipano un po come vuoi avere un'intervista vuoi avere visibilità in tv paga grazie è un po' differente come invece ti abbiamo scelto per le tue qualità oppure vorremmo un tuo parere o altro solo dedicata alla pizza e comunque rimane un po' monotematico perché nei momenti in cui tu fai se ci fai caso bene o male c'è sempre stato un momento pizza in tutte le trasmissioni anche importanti di cibo un momento dove si è andato a visitare la pizzeria oppure si è fatta la pizza ma anche le trasmissioni sulla rai antonella clerici della balivo e così via c'è sempre stato un momento sulla pizza ma che che è stato affiancato dal cibo in generale nel senso dal mio punto di vista si fa fatica a pensare un format lungo solo pizza di massa perché si esaurisce rapidamente la la varietà e l'appetibilità allora meglio inserirla perché è bellissima perché colorata perché gioiosa in una serie di di attività anziché singola poi è chiaro se uno si organizza se magnolia che è quella di masterchef se non sbaglio anche si organizza per fare un format ad alto budget per la pizza magari ci riesce oggi tutti quelli che ho visto su alice tv e altri canali diciamo medi del satellite o digitale lasciano molto a desiderare come budget come qualità e altro quindi ecco secondo me è una questione di varietà si fa fatica a parlare per dieci puntate per una stagione intera poi c'è qualcosina c'è anche mica pizza e fichi di tinto al radio c'è pizza girls che è un demand su sulla 5 sta crescendo la situazione poi onestamente lo dico in maniera tecnica anche un po' sti cazzi molto tecnica tecnicissima nel senso boh non ne vedo tutta questa esigenza se non per dire ok aumentiamo ulteriormente l'attenzione che magari l'economia che gira attorno al mondo pizza è ancora superiore quello certo è chiaro più visibilità c'è anche in tv anche ad altissimo livello più magari c'è un ritorno economico per tutti una movimentazione economica per tutti e girano più soldi più sponsor più attenzione perfetto bene adesso giuro che questa invece è veramente l'ultima domanda ed è diciamo siamo già arrivati quasi a un'ora ci sarebbero penso altri mille argomenti di cui vorrei parlare ma chi lo sa magari faremo anche un secondo episodio e la domanda è quella appunto tradizionale e che cosa ti riserva il futuro insomma sappiamo di garage pizza che è un sito è un canale youtube è anche un podcast e di tutti gli altri tuoi progetti abbiamo parlato ma che cosa stai preparando ovviamente che puoi dirci soprattutto legato al mondo pizza nel futuro mi serve innanzitutto cercare di tornare alla normalità come un po tutti di fare quello che si faceva prima che adesso ci manca ancora di più io poi di base anche come persona non è che sono così sociale socievole e quindi invece mi manca tanto anche a me riprendere un po i progetti che sono bloccati per il covid perché poi tra le altre cose garage pizza è frutto di una di una start up che ho lanciato che segue il percorso fatto con net addiction di sapore moltipline però è una start up che durante il primo anno era andata molto bene al di là della questione economica proprio a livello di progetti ed è stata brutalmente bloccata da questo covid visto che poi avevo fatto tante cose anche tanti eventi fisici come accennavi te in giappone in italia e altro quindi innanzitutto la ripartenza di parte di quei progetti che purtroppo dovranno aspettare ancora un bel po perché per quanto sono sicuro da un lato che magari da quest'estate ricominciamo a respirare a fare tante cose dall'altro la normalità vera ci vorrà ancora un bel po ci sono un paio di progetti in cantiere uno verrà annunciato legato alla pizza fatta in casa proprio spero entro un mesetto un mesetto e mezzo massimo due sto progettando sto facendo tanti progetti legati al mondo pizza con una forte componente digitale sto trasportando alcune cose la partnership col giappone con l'ambasciata d'italia a tokyo la camera di commercio stiamo spostando un po di attività online e tendenzialmente l'idea è far crescere sempre più garage pizza lanciare questi format nuovi e continuare a raccontare il mondo pizza secondo me sono ancora in una fase embrionale realtà del racconto del mondo pizza alla gente vorrei continuare a raccontare alle persone quello che penso i risvolti le curiosità a fare anche una guida e una selezione credibile e onesta nel bene nel male di cosa di come vediamo noi il mondo della pizza ecco quindi adesso bisogna resistere un altro po perché siamo tutti estremamente frustrati da questa situazione e bisogna continuare a tenere fino a che poi appunto si potrà ripartire per davvero assolutamente bene antonio grazie grazie infinite veramente come come ho detto prima ci sarebbero altri altri mille argomenti da trattare ma insomma non non escludo in di risentirci in un futuro se se avrai se avrai tempo se ci sarà quando vuoi quando è finito il giro quando vorrai faremo la seconda puntata volentieri ricordo a tutti che nelle note dell'episodio che trovate su spotify apple podcast sul sito di pizza podcast punto it trovate riferimenti a garage pizza che è il sito di antonio di cui abbiamo parlato più volte e tutti gli altri gli altri argomenti che abbiamo menzionato comprese le pizzerie e i pizzaioli di cui abbiamo parlato grazie ancora antonio e buonanotte grazie a te simon un saluto a tutti